Ciao a tutti ragazzi e buongiorno io sono Ale Bianconero e benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi andiamo a parlare dei quarti di finale di Champions League che ci sono stati ieri sera e posso dirvi che ci sono rimasto malissimo nel senso che Bayern Monaco 8 Barcellona a due chi avrebbe mai pensato che il Bayern Monaco potesse fare un risultato del genere io personalmente diciamo che avevo già previsto che il Bayern passasse contro il Barcellona perché comunque ora come ora lo vedevo più in forma e infatti così è stato ma non pensavo che ci fosse un divario così enorme tra le due squadre ricordiamoci il Barcellona e il Barcellona c'è una storia e una reputazione e ieri praticamente questa storia non che la storia si cancelli ma più che altro la reputazione si è andata a nascondere proprio c'è un'umiliazione ecco umiliazione, ieri è stata un'umiliazione perché tutto questo divario? Secondo me semplicemente perché innanzitutto quest'anno il Barcellona chiude l'anno con zero titoli e da quello che ho capito sicuramente l'allenatore verrà esonerato, Setién per forza perché nella storia del Barcellona se non sbaglio mi sono andato a informare massimo 4 gol ha preso in Champions League, 4, oggi ne ha presi il doppio ed è la prima volta anche che ne pia 4 in un tempo perché ne ha presi 4 in un tempo 4 nell'altro tempo ma poi soprattutto ho saputo anche di un malumore di tantissimi giocatori ad esempio vi faccio un esempio molto chiaro o se ne va via l'allenatore e se ne va via chi gestisce il Barcellona ovvero il presidente o ce ne andiamo noi questo è più o meno il riassunto che ho capito più o meno che l'andazzo va così che o va via presidente e allenatore o andano via molti molti giocatori ma tanti giocatori e niente ragazzi 8 a 2 immaginiamoci un attimo sulla partita primo gol bellissimo primo gol bellissimo 1-2 Talebandowski-Muller questo è calcio questo è calcio assolutamente calcio un altro gol che ho vincito tanto è stato quello di Davis non mi ricordo se era il quarto o il quinto scusate ce ne sono stati così tanti che ora ricordarmi bene quale uno quale l'altro è un po' difficile però il Bayern Monaco ha talento il Bayern Monaco è una macchina da guerra perché è instancabile e soprattutto è squadra il Bayern Monaco è squadra una squadra che te ne fa uno te ne fa due te ne fa tre te ne fa quattro e continua a proporre calcio continua ad attaccare non è una di quelle squadre che dice che ne so bene sono in vantaggio di 3-4 gol molliamo la spina riposiamoci tanto abbiamo vinto finisce qua la partita no loro continuano ad attaccare loro finché possono fare gol fanno gol ed è giusto così è giusto così perché se tu vinci 5 sei a 0 e poi ti fermi è una presa per il culo da parte c'è una presa per il culo per gli avversari perché l'avversario ci rimane molto più male se ti fermi invece giusto per rispetto dell'avversario è giusto continuare a giocare e giusto segnare il Bayern Monaco ieri è stato impeccabile su questo punto di vista certo è il Barcellona voi mi direte si ok continua a segnare ma 8 per il Barcellona è un'umiliazione allo stesso si è un'umiliazione allo stesso ma da parte loro che hanno sbagliato loro quindi Barcellona il Bayern Monaco ha fatto quello che voleva fare ed è giusto che sia stato così ne so qualcosa benissimo in casa Juve quante volte quest'anno con la Juventus anche in campionato soprattutto in campionato 3 a 0 con Napoli all'andata 3 a 3 se non è più con i bari che fa l'autogol andiamo a pareggiare 2 a 0 col Sassuolo e poi alla fine fida 3 a 3 e vinceva tra due il Sassuolo 2 a 0 col Milan perde 4 a 2 col Milan la Juventus va in vantaggio di 1, 2 a volte anche 3 gol poi si addormenta perché pensa di aver già portato a casa i tre punti il risultato rientra in campo che poi alla fine ci fa pareggiare o perde questa non è squadra mi spiace io io amo la mia squadra Juventus ma la Juventus non è squadra perché la vera squadra è come il Bayern Monaco che non si ferma mai ad attaccare che vuole sempre trovare il gol è così che si fa io vorrei una Juventus così vorrei vorrei questo tipo di mentalità che purtroppo ora come ora manca e spero che prima o poi questa mentalità qua arriverà ha fatto anche un altro gol Lewandowski che comunque ora che il Bayern è passato c'è ancora una semifinale e una finale Lewandowski sappiamo che è il record vuole raggiungere anche lui Ronaldo nella cosa che ha fatto più gol in Champions in una stagione ora non mi ricordo a quanto è ora dove aveva fatti 16 Lewandowski forse a 14 13 non mi ricordo a 400 mila attimo per voi ragazzi ma io non mi ricordo su sta cosa qua i numeri non sono diciamo il mio forte e niente io penso che il Barcellona questo risultato qua non se lo scorderà mai vorrei anche sottolineare questa cosa qua in casa Inter che hanno già venuto i Cardi a una somma di 50-60 milioni Perisic comunque il suo sta sera l'ha fatto in una squadra comunque così amalgamata ben messa come Bayern Monaco anche uno come Perisic fa bene non sia mai che anche Perisic viene riscattato dal Bayern Monaco perché se in tal caso Perisic viene riscattato dal Bayern Monaco l'Inter con i solidi Cardi più i solidi Perisic avrebbe già da parte 100 milioni a passa da investire sul mercato più gli altri probabiliti come Gio Mario, Vessino, Gagliardini in tal caso Nainggolan si dovessi tornare quando lo rivolgono o quando lo rivendono quindi l'Inter ha già 100 milioni da parte più altri giocatori che devono vendere quindi potenzialmente io già penso che l'Inter abbia quei 200 milioni da investire sul mercato quest'anno con 200 milioni di mercato ne fai già l'Inter ne ha fatto tanto l'anno scorso quindi occhio all'Inter perché se quest'anno l'Inter investe su questi soldi e li investe bene l'Inter diventa uno squadrone la sportiva lo devo dire diventava uno squadrone e con il fatto che abbiamo un nuovo allenatore noi Pirlo che è un'esperienza loro comunque hanno sempre un Antonio Conte che per quanto può essere rompipalle tra virgolette microfoni e tutto molto diciamo che contesta sempre sul fatto come allenatore non si può discutere quindi l'Inter può essere veramente una candidata per lo scudetto il prossimo anno certo i favoriti sono sempre noi perché comunque 9 su 9 chi vince lo scudetto il prossimo anno parte sempre da favorita ma occhio davvero all'Inter e occhio anche a Messi perché sono voci tutto quello che volete sì Messi all'Inter quello che volete sono voci ma dopo il risultato del genere dopo un'otto a due del genere io ho visto la faccia di Messi a parte che Messi ieri non si è vista in campo come non si è visto tutto il Barcellona però dopo la faccia di Messi dopo questa cosa qua che molti giocatori dopo questa sconfitta così assurda potrebbero partire i tifosi dell'Inter forse possono se prima sugnavano il 5% il 10% magari ora sugnano il 20% per questa cosa qua non lo so comunque staremo a vedere ragazzi e niente stasera ci sarà Manchester City Lione potevamo esserci noi contro Manchester City ma non ci siamo c'è Lione e penso che ve la commenterò poi domani la seguirò stasera ma la commenterò domani se il video vi è piaciuto ragazzi comunque lasciate like mi raccomando commentate così possiamo un po' parlarne e soprattutto perché no iscrivetevi al canale qui l'Ale Bianconio è tutto bella